Passiamo ora agli strumenti di pagamento che si avvalgono di apparecchi elettronici senza far uso di moneta. In questo caso parliamo di monetica che è l'abbreviazione del termine moneta elettronica. Principale strumento sono le carte di pagamento ovvero dei documenti elettronici materializzati in tessere plastificate che si avvalgono della banda magnetica o del microprocessore. Elemento essenziale per l'utilizzo di una carta di pagamento è il conto corrente. Le carte di pagamento sono essenzialmente di tre categorie. Ci sono le carte di debito, le carte di credito e le carte prepagate. La carta di debito nota tutti con il termine di Bancomat ha la caratteristica principale nell'immediatezza della debito della spesa sostenuta. Per quanto riguarda l'utilizzo della stessa è quello che comunemente facciamo tutti i giorni ovvero il prelievo di contanti presso gli sportelli automatici, la lettura di estratti conti e movimenti, la possibilità di effettuare i pagamenti presso gli esercizi convenzionati ovvero dotati di POS che è il terminale elettronico che consente la lettura della carta e l'addebito in conto corrente al fine del pagamento della merce acquistata, la possibilità di ricariche telefoniche e inoltre la possibilità di utilizzare il Bancomat anche per il pagamento presso i caselli convenzionati dell'autostrada. La caratteristica principale delle carte di credito consiste nella posticipazione dell'addebito di tutte le spese sostenute nel mese solare. In questo caso la valuta viene differita e l'importo viene anticipato dall'istituto. L'utilizzo principale della carta di credito è per l'acquisto di merci o servizi presso gli esercenti convenzionati, un anticipo in contante, gli acquisti online, pagamento come fast pay e anche per le ricariche telefoniche. Le carte di credito si dividono in due grandi categorie ovvero le carte di credito che hanno un unico addebito ovvero un addebito in un'unica soluzione nelle date prefissate e le carte revolving ovvero le carte che hanno la possibilità di un rimborso rateale in base al saldo di fine mese. Le carte prepagate sono uno strumento di pagamento che necessitano di una iniziale operazione di ricarica prima di qualsiasi utilizzo. Possono essere rilasciate ai non clienti, hanno una scadenza fissa e sono ricaricabili presso l'agenzia, gli ATM, con internet o presso i call center. Le carte prepagate si dividono in tre grandi categorie che sono le carte monouso, le carte a spendibilità limitata e le carte a spendibilità generalizzata. Le carte che presentano questo marchio ovvero fast pay hanno la possibilità di pagare determinati servizi, pedaggi autostradali, parcheggi e biglietteria marittima. Hanno la caratteristica principale di avere un unico addebito il mese successivo e non prevedono commissioni. Vi è poi la via card ovvero una carta magnetica che può essere utilizzata per i pagamenti presso i caselli autostradali. Caratteristica principale è un unico addebito il mese successivo e la futurazione a cura della società autostradale. Infine vi è il telepass, lo strumento che ci consente il pedaggio autostradale senza fermarci ai caselli. In questo caso abbiamo due tipi di telepass, il telepass ordinario e il telepass family. Caratteristica di entrambi gli apparecchi è la fatturazione a cura della società autostradale e la debito trimestrale in un'unica soluzione. Passiamo ora a vedere cosa dobbiamo fare in caso di furto o smarrimento delle carte di pagamento. Prima di tutto voglio sottolineare la particolare cura attenzione che va posta nella custodia delle carte in quanto in caso di furto e smarrimento vi è un potenziale rischio per il cliente e per la banca. Prima di tutto dobbiamo porre molta attenzione nella prevenzione, infatti dobbiamo apporre la firma appena la carta di pagamento ci viene consegnata ed inoltre dobbiamo aver cura di costudire il PIN e la carta in luoghi separati. In caso di furto o smarrimento dobbiamo poi procedere alla denuncia presso le autorità competenti dopo aver chiamato il numero verde del servizio clienti per il blocco della carta. Voglio ricordare che comunque le carte di pagamento hanno una polizia assicurativa a seconda della varia tipologia delle carte stesse. Un ulteriore servizio ci può aiutare ovvero l'SMS Alert, un servizio spesso offerto gratuitamente dagli istituti che avvisa il cliente tramite un SMS non appena la carta di pagamento viene utilizzata, dando così la possibilità al cliente stesso di approfondire il movimento e se qualcosa non risultasse a posto può contattare il numero verde del servizio clienti, chiedere lo storno dell'addebito e bloccare la carta. Con questo ho terminato il corso sugli strumenti di pagamento. Mi auguro che gli argomenti trattati siano stati chiari e vi possono servire in futuro per un utilizzo sempre più consapevole degli strumenti di pagamento. Grazie.